Il tema è un libro sul lago di Como con fotografie di Carlo Borlenghi e scrittura di Andrea Vitali. È un libro particolare nel senso che va a cercare gli angoli più suggestivi del lago, angoli magari non fotografati da altri che quindi hanno una loro piacevolezza, diciamo. Anche perché il lago è fatto da piccoli angoli suggestivi dove quasi si arriva al sogno perché ci sono degli angoli talmente evanescenti che sembrano derivati da un sogno. Pensiamo ad esempio alla Zocca dell'Oli in una sera di maggio, ai cipressi di Brienne o a tanti altri posti del genere che non nulla hanno a che fare col turismo di massa spesso chiassoso. Quindi per andare a vedere questi posti che emergono dal libro di cui parleremo occorre entrare in silenzio quasi come se andasse in chiesa. L'autore si è occupato sempre di nautica, di acqua, sul mare ha seguito Luna Rossa, il Moro di Venezia e quindi sul lago si è trovato in un posto più ristretto ma non meno bello del mare e dei mari che lui ha visto. Grazie. Grazie.